Ciao Cybernana, così ti chiamiamo ad Arezzo, ma lo vedi quanto fai schifo? Tu sei il mostro di Arezzo. E la stessa Ilaria Bidini, 31enne a retina, affetta da osteogenesi imperfetta da mesi vittima di cyberbullismo, a dar voce ai suoi haters, denunciando pubblicamente con gran coraggio chi la offende sul web e vincendo così la propria battaglia contro il cyberbullismo. Abbiamo letto questi insulti insieme al giornalista Salvero Tommasi di Fanpage, perché voglio dire una volta per tutte stop al bullismo e al cyberbullismo e non è solo per me, ma per tutti coloro che sono considerati diversi. Voglio far capire che innanzitutto non è vero quello che viene detto alle persone considerate diverse e voglio far capire di non ascoltarle, soprattutto di non arrendersi. Da mesi l'aria è attaccata sul suo profilo social con cattiverie d'offese. Adesso ha deciso di reagire. Spero veramente che finalmente si deciderà di fare qualcosa perché non è giusto. Io fondamentalmente se non arrivavo a questo stupido, questa stupida, io non sono il tipo che pensa sempre alla sua disabilità. Non mi sento una persona né infelice né, come dice questo essere, non mi sento come mi descrive. Mi ci sentivo tanti anni fa e non ho nessuna voglia di risentirmi come un tempo. Ilaria adesso vuole arrivare sino in fondo a questa vicenda cercando di dare un volto all'autore o d'autrice che si nasconde dietro a quel nick che continua ad offenderla. Per farlo è assistita da un legale che si è già messo al lavoro. Il prossimo passo è quello di fare un'integrazione di Corella che verrà presentata presso la polizia postale. Integreremo la Corella che è stata già fatta da Ilaria perché secondo me i fatti così come raccontati integrano il reato di atti persecutori che è sicuramente un fatto molto più grave di quello della diffamazione che poteva essere configurato in un primo momento. Ovviamente questa persona ha fatto più commenti e questi commenti hanno ingenerato nei confronti di Ilaria uno stato di timore che è tipico dei reati del 612 bis come viene chiamato comunemente stalking.